Questo è partito la mattina presto, andavo a fare scroda dei toni per la via normale. Quando era quasi su in cima in un canale, sono venuti dei sassi, voleva spostarsi velocemente, però ha detto che è rimasto incastrato con un piede e di conseguenza si è fatto male. Gabriel vira verso la parete, il più vicino possibile. Christian deve poter valutare le condizioni dello scalatore con una semplice occhiata. Già il medico vede come è seduto questa persona, cosa ha, i possibili traumi, i possibili problemi che può avere. È solo questo? Sì, sì, è solo. Buono. Ok, ha preso su tutta la sua roba. Da lì è riuscito ancora a scendere per 150 metri, solo che a un certo punto non ce la faceva più, è chiamato giustamente soccorso. L'infortunato zoppica vistosamente, è cosciente e non sembra avere altri traumi, ma è bloccato senza imbrago su una cengia di 50 centimetri. Sotto di lui, uno strapiombo di 800 metri. Vuoi che mettiamo i novi dei via lì? Oh, questo lo prendiamo con il vericello, penso. Il vericello? Sul suo. Il vericello?